Buonasera a tutti e ben ritrovati su CannoTV. Oggi parliamo di BIS Bonelli. Ve li ricordate? Hanno invaso le edicole lo scorso anno, nell'estate del 2021, e a quanto pare l'operazione deve essere andata molto bene, tanto che la Sergio Bonelli, editore, ha deciso di ripeterla. Infatti io qui vi mostro alcuni degli albi BIS, naturalmente, che potete trovare tuttora in edicola. Non vi sono di tutte le testate, mancano per esempio Dampier e Martin Mister, anche se non saprei spiegarvene la motivazione. Trattasi di albi filler che presentano delle storie autoconclusive, slegate da ogni sorta di continuity, che quindi possono agevolare i lettori non proprio abituali delle varie testate. Oggi iniziamo ad approfondirli partendo dal primo BIS che è giunto in edicola, ovvero dal BIS di Nathan Never. Parliamo infatti oggi del numero 373 BIS di Nathan Never, intitolato la versione di Herschfield, che si presenta con questa, secondo me, bellissima copertina di Sergio Giardo, molto indovinata per il mio, soprattutto dal punto di vista della colorazione, con questi toni sul bluetto, sull'azzurrino, sul verde acqua, sul grigetto, sul violetto, che si contrappongono idealmente al marroncino del pavimento e del drago alato, sullo sfondo, insomma, dietro ai tre protagonisti dell'albo. I protagonisti sono, come vedete, Nathan Never, Lex Weaver e Sigmund, che in questa avventura scritta, sceneggiata da Davide Rigamonti, autore anche del soggetto Davide Rigamonti, lo stiamo vedendo spesso ultimamente sulle pagine degli Albi Bonelli, sta per esempio sceneggiando anche alcuni episodi della nuova miniserie di Nick Raider, le nuove indagini. Davide Rigamonti in quest'albo ci racconta di un'azienda, che sorge, un'azienda chimica, che sorge in una zona desertica, che avrebbe, a quanto pare, inventato una sostanza, creato una sostanza in grado di riqualificare, fertilizzandola la zona, avviandola quindi al conseguente sviluppo economico. I piani di quest'azienda sono però minacciati da alcune organizzazioni eversive di ribelli che ne minacciano l'attività. Costoro sostengono che in realtà quest'azienda stia creando delle armi chimiche e per i loro esperimenti stia sacrificando le persone locali, quindi i locali che vivono in zona. L'azienda quindi chiede l'aiuto naturalmente dell'agenzia Alpha ed ecco arrivare Nathan Never, Lex Weaver e Sigmund che si dividono i compiti. Sigmund cerca di hackerare il sistema digitale di queste organizzazioni eversive, Nathan Never organizza l'attacco diretto mentre invece Alex è affidato il compito di infiltrarsi nella banda di Reagan Liberty, una delle più pericolose e rispettate anche leader di queste organizzazioni eversive. La missione però sembra fallire e durante un rapporto dinanzi allo psicologo Julius Erschfeld parrebbe in qualche modo diciamo nascere una versione differente di quelli che sono i fatti raccontati da Nathan, da Lex e Sigmund. Forse la verità non è esattamente come appare. Forse i buoni sono i cattivi e i cattivi in realtà sono buoni. Io però non vi dico altro circa appunto questa storia che merita di essere letta perché è veramente molto interessante, è strutturata molto bene a modi flashback, i flashback dei tre protagonisti quindi Nathan, Lex e Sigmund e per ultimo le ipotesi dello psicologo che l'interroga ovvero Julius Erschfeld. Questi differenti momenti dell'azione sono disegnati da mani differenti perché mentre lo sceneggiatore, autore del soggetto, è uno solo, Rigamonti, i disegni invece sono affidati a ben quattro artisti differenti ovvero Lucia Arduini che si è occupata della storia del prologo diciamo prologo epilogo della storia che unisce tutte le altre ovvero il resoconto che Nathan, Lex e Sigmund fanno allo psicologo Erschfeld con dei disegni secondo me veramente molto belli. io ve ne mostro alcuni, innanzitutto questa bella tavola iniziale con questa bellissima caratterizzazione di quella che è l'agenzia Alpha sotto questa tempesta che è veramente ben raffigurata dalla Arduini, anche nei particolari per esempio vedete la tempesta vista dal vetro, dalla finestra della stanza dove si trova lo psicologo Erschfeld che inizia ad interrogare i personaggi partendo da Lex Weaver. Proprio di Lex Weaver c'è un bellissimo primo piano dello sguardo di Lex disegnato dalla Arduini che poi cede il posto al secondo disegnatore di questa storia che si occupa dei flashback riguardanti appunto Lex Weaver e la sua opera di infiltrazione nella banda di Regan Liberty. Flashback disegnati da Matteo Resinanti che ha veramente uno stile bellissimo che mi piace molto, molto diverso, guardate che meraviglia questo primo piano di Lex Weaver e notate anche la differenza con lo stile precedente della Arduini, due stili totalmente opposti ma secondo me altrettanto entrambi insomma efficaci nella rappresentazione dei personaggi ma anche degli sfondi e delle ambientazioni. Sono veramente dei disegni molto belli dal taglio anche più moderno, se vogliamo molto dinamico, vedete queste scene di combattimento con Lex che deve superare una prova diciamo per essere accettata in questa organizzazione ribelle e i disegni del disegnatore in questione sono veramente molto interessanti. Ma lo stile cambia ancora perché a Antonella Vicari sono affidate le tavole che invece hanno per protagonista Sigmund e quindi il suo difficile compito di hackeraggio dei sistemi digitali di queste organizzazioni. Vedete hanno un taglio molto digitale appunto queste tavole con Sigmund appunto che affronta un tale di nome Mr. Tarma, il Tarma, la Tarma o qualcosa del genere che appunto altro non sarebbe che il principale hacker di cui dispongono queste organizzazioni in un mondo fittizio, in un mondo digitale creato a modi di castelli, di draghi e insomma dalle fattezze quasi medievali. Vedete appunto delle tavole molto carine, forse dal taglio un pochino più normale, ecco, se posso rispetto alle precedenti però uno stile veramente molto interessante. L'ultimo disegnatore che si avvicenda nel corso di questo albo è Pietro Vitrano a cui naturalmente sono affidate per logica le parti relative a Nathan Never e quindi all'attacco che che consegue Nathan. Vedete il primo piano di Nathan Never disegnato da Vitrano e queste queste tavole che comunque continuano ad essere molto molto interessanti e differenti quindi dotate di una loro personalità rispetto alle altre così come anche le altre naturalmente erano dotate di una loro particolarità. Dal punto di vista grafico per cui è un lavoro molto interessante. Vedete che gli stili si alternano, si sovrappongono ma nessuno mette, nessuno di questi stili mette in ombra gli altri per come la vedo io. Quindi è dato il sufficiente spazio a tutti quanti i disegnatori e io direi che dal punto di vista grafico è veramente un bel lavoro. La storia è molto interessante nonostante sia tutto sommato piuttosto veloce per cui naturalmente su un albo più... io nel frattempo vi mostro altre tavole insomma per farvi vedere un po' per darvi un'idea ecco di quelli che sono i differenti disegni, le differenti tavole, i differenti stili. Dicevo su una storia probabilmente più lunga con più pagine a disposizione si sarebbero potuti meglio caratterizzare i caratteri dei vari comprimari. In particolare il personaggio di Regan Liberty è molto interessante e sarà poi determinante per la spiegazione finale di questa avventura ma pur contando il contenuto, insomma il numero di pagine secondo me Rigamonti fa un buon lavoro ed è interessante quanto anche a tratti un po' enigmatica la figura di Julius Erschfeld che arriva poi a formulare una sua personale verità non rafforzata da prove ma soltanto appunto da supposizioni circa il reale accadimento diciamo di questi fatti, di questa vicenda. Per cui è un albo interessante secondo me con una storia un pochino differente rispetto al solito, un albo che funge da filler vero e proprio perché spezza un po' la tensione rappresentata dalla trilogia, dalla seconda trilogia relativa alle origini di Aristotele Scottos che è attualmente in corso sulla regolare appunto di Nathan Never. Quindi questo, con questo bis ci si prende una pausa da quei fatti e ci si concede appunto questa avventura autoconclusiva comprensibilissima naturalmente anche ai lettori non abituali della testata di Nathan Never. Il mio giudizio quindi è positivo, è una storia che ho letto molto gradevolmente, mettiamola così, in terza di copertina vi mostro naturalmente i due albi, due di tre che compongono la nuova trilogia di Aristotele Scottos, Codesto è ancora in edicola, mentre invece in quarta di copertina una bella panoramica, naturalmente escluso il numero in questione di Nathan Never, degli altri bis presenti in edicola. Le testate in questione sono quindi Dylan Dog, Giulia, Dragonero Tex e Zagor, assenti Martin Mister e Dampir. L'avete letto? Vi è piaciuto? Fatemi sapere che cosa ne pensate. Per il resto io vi ringrazio per l'ascolto e vedremo di approfondire anche gli altri bis nel più breve tempo possibile. Buone sudate a tutti e buon proseguimento di serata. Ciao a tutti!